Con il Vescovo Monsignor Armando Trasardi l'appuntamento era per le 9.30 presso il Centro Pastorale Diocesano in via Roma a Fano con le associazioni sociali ed economiche della città. L'obiettivo è un confronto e condivisione su tematiche quale il lavoro e il sostegno in tutti quei casi di precarietà e difficoltà generati dalla crisi economica. Oggi, afferma il Vescovo, c'è bisogno più che mai di coerenza e di coraggio per affrontare i tanti problemi e che il contesto territoriale ci pone. Il percorso di incontro-confronto è iniziato a giugno dello scorso anno sotto il titolo L'impegno nel presente e lo sguardo sul futuro. Presente all'incontro anche il neoeletto sindaco di Fano Massimo Seri.